Il segretario del PD Matteo Renzi è stato ospite del Fantini Club per la presentazione dell'ultimo libro in vetta alle classifiche. Quando io vedo lo spazio che ancora l'Italia ha, cioè guardate il turismo per esempio, sto signore qua ci ha spiegato oggi facendoci vedere quello che ha fatto il turismo una scatola vuota. Sono i servizi che lo caratterizzano. Allora voglio provocarvi, adesso faccio arrabbiare i sindaci e tutta la Romagna. Voi avete un mare bellissimo per carità, però in altre zone d'Italia c'è un mare altrettanto bello per non dire forse addirittura più bello. Però tutta la cultura dell'accoglienza, dei servizi, della capacità di fare straordinaria opera di accoglienza delle persone voi la insegnate all'Italia e al mondo? Intanto oggi è una giornata di festa e di lavoro, si calda in tanti dicono, è anche però una giornata in cui con gli operatori si approfondiscono i temi del turismo, del turismo sportivo. La riviera sta dando, devo dire, grande prova di sé, lo dico orgogliosamente anche da Emiliano Romagnolo che accompagna Matteo in questo tour ed è una giornata di lavoro perché il segretario sta incontrando persone e il libro poi è un'occasione di dibattito, incontro come quella al bagno Fantini qui a Cervia.